Salve a tutti, è un bel po' che non faccio una ripresa, in macchina, penso che tutti abbiamo visto ieri sera il player championship che ha vinto Van Gerwen, ma ieri Van Gerwen era in difficoltà perché le doppie linee venivano, manca a morire, tipo il venerdì sera sono stato a fare un po' di allenamento e avevo più o meno lo stesso problema, ogni volta che tiravo in doppia, ferro, 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 esattamente più o meno come Van Gerwen l'altra sera, chiaramente non è che gioco come lui, ma mi sono chiesto, mi capita anche a lui, non è che capita solo a me, però è stato bravo perché nonostante fosse in difficoltà è riuscito a vincere una partita in cui c'era Gary Price che nella semifinale ha giocato in maniera strepitosa contro Dobby, giocando veramente veramente forte, e Van Gerwen che non era perfetto perché anche nella semifinale aveva giocato un po' così così, è riuscito a portarla a casa, quindi se voglio dire, tanto di cappello per Van Gerwen, perché non è facile, è riuscito a vincere una partita estremamente complicata, diciamo che nel momento clou quando erano su 7 a 7 è riuscito a fare qui due leg, l'ottavo e il nono di fila, ha tirato fuori veramente il carattere per vincere quelle due partite, questa è stata una cosa che gli ha dato poi la vittoria, perché poi ha fatto fare appunto a Gary Price, lui ha fatto il decimo, ha gestito poi, ha fatto quei due leg in più che gli consentisse di poter gestire e arrivare alla fine non mi sembrava nervoso, mi sembrava estremamente concentrato, invece Gary Price era non in difficoltà di gioco ma in difficoltà di tensione, l'attenzione che lo spaccava in due, il primo leg è stato una roba che insomma, quel leg l'avrei vinto anche io, anche perché chiunque l'avrebbe voluto vincere quel leg l'hanno beccato una doppia, anche a morire, infatti poi Gary Price ha detto alla fine, credo che sia uno dei leg più belli che si siano mai visti, comunque un bel comportamento, anche se Price cercava di far rinervosire un po', secondo me, Van Gerwen all'inizio cercava il contatto, ha cercato di farsi sfiorare per tirare fuori la zizzagna, ma Van Gerwen non è uno a cui gli fai questi giochetti, eh, frega niente, Van Gerwen fa il suo, sta concentrato, attento, spero che si veda, e quindi non c'è poco da stare lì a fare giochetti con lui, nel senso che Van Gerwen è navigato su queste cose, ha fatto la sua partita, è stato concentrato, è stato veramente, veramente, veramente molto bravo, quindi nonostante fosse in difficoltà è riuscito, perché era un'evidente difficoltà, cioè le doppie non gli entravano, si è messo a chiudere di bull all'inizio perché si è messo a chiudere di bull all'inizio perché si è messo a chiudere di bull all'inizio perché si è messo a chiudere di bull, che era il doppio 20, ha fatto anche delle belle chiusure, è bravo anche Price, la partita con Price contro Dobby è stata una grandissima partita, bellissima, proprio, tiratissima fino alla fine, Van Gerwen con White è stato invece, nonostante le difficoltà, power scoring c'era, abbastanza buono, doppia un po' fatica, ma insomma è riuscito a portarla fuori abbastanza tranquillamente perché stava gestendo la partita stava cercando di non stancarsi troppo secondo me, Gary Price invece se avete visto quando gli avevano fatto l'intervista a fine partita dopo aver giocato con Dobby era un po' provato perché è stata una partita tosta, dura, quindi è stato un bravissimo Price, e Van Gerwen è uno di quelli che ha quel quid in più, sa come gestire la partita, cioè perché quando lui accelerava quei due leg e poi gestiva, lasciavo che quando era al tiro prima Gary Price lasciava andare, non spingeva le frecce dove andavano, andavano, gli importava, appena toccava a lui cominciare, tirava forte subito, si vedeva subito il cambio tra quando tirava per prima Gary Price, Van Gerwen lasciava andare, toccava a lui, era subito 140, 180 subito, perché vinceva quelle sue, ha dato quei due strappi in più quelle due volte per fargli il break a Gary Price, quindi diciamoci la verità, un grandissimo giocatore, e questo mi fa piacere, spero vivamente che continuino a giocare così e che Van Gerwen si dia una sistemata per il campionato del mondo, perché ieri l'ho visto un po' così. Salute a tutti!